E dopo il finanziamento della piscina Nuotiamo, la fondazione Carifano non sta con le mani in mano, ma ha già attivato il finanziamento di un nuovo progetto, un nuovo progetto di inclusione, di carattere sociale che questa volta guarda più la periferia, ma direi anche tutto il territorio. Presidente Gragnola, qual è stato l'obiettivo e qual è la finalità di questa nuova impresa? Partiamo con un'altra iniziativa importante, anche questa impegnativa, ma non è periferica, perché noi abbiamo un territorio ben definito e all'interno di questo nostro territorio di intervento c'è il territorio di Colli al Metauro, di Terre Roveresche, di Cartoceto, di Fossombrone e tutte le altre amministrazioni dell'ambito che hanno chiesto e sollecitato la realizzazione di questa struttura, è una struttura importante, una struttura che dà un riferimento alle persone più fragili, agli anziani e diversamente abili e è una delle vocazioni della fondazione di intervenire in questo senso. Ma l'altra notizia importante è che questa realizzazione finanziata dalla fondazione è una realizzazione che trova un partner, che è la Schnell, che è una società del nostro territorio, di riferimento, che ha deciso di destinare con una liberalità, con un contributo importante di 100.000 euro a favore della fondazione per la realizzazione di questa struttura. Quindi diciamo subito, si tratta di un centro diurno per anziani? Sì, è un centro diurno per anziani e non soltanto per anziani, anche per soggetti disabili, soggetti fragili, per giovani. Ecco, vediamo un po' il programma della realizzazione di quest'opera, i cui lavori cominceranno a breve. Sì, i lavori cominceranno nelle prossime settimane, è già stata individuata l'impresa attraverso un bando, come sempre fa la fondazione, ci sono dei professionisti di riferimento, l'architetto Battisti, l'ingegner Gaggiottini, che sono i tecnici di riferimento di questa struttura e il termine per la sua completa realizzazione è previsto per la fine del prossimo anno. La fondazione acquisirà un'area di oltre due ettari e mezzo, che vede la realizzazione in questa prima fase di una struttura di 360 metri, ma che ha chiaramente delle potenzialità per poter crescere in termini modulari anche nel futuro. L'investimento? Un milione e 350 mila euro. Questo progetto si avvale anche di un'importante collaborazione e di un'altrettanto importante azienda del nostro territorio, la Schnelle. Presidente Rupoli, che cosa vi ha spinto a collaborare a questo progetto? Il progetto era molto interessante, era molto in linea con il nostro modo di concepire la relazione tra l'azienda e il territorio ed è poi un progetto a pochissime centinaia di metri di distanza dalla nostra sede, e quindi aveva tutte le caratteristiche per essere eletto come il progetto su cui investire, una somma per noi importante a questi fini. Questa interazione tra aziende e territorio, che poi vicendevolmente da scambiarsi, perché poi l'uno contribuisce all'altro e l'altro contribuisce all'uno, costituisce anche una risorsa per la nostra produzione. La principale risorsa che un territorio dà a un'impresa sono le persone, con le persone poi si fa tutto, le risorse finanziarie si trovano, ma se non ci sono le persone non ci sono le idee, non ci sono proprio gli elementi di base, quindi è giustissimo che all'interno di questo concetto ci si preoccupi anche di quando poi noi tutti, le persone, diventiamo anziani, diventiamo fragili, e questo è un bellissimo progetto per aiutare in questa fase.